Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video in cui vi mostro, vi do qualche spunto per qualche idea regalo per Natale per gli ultimi ritardatari. Non è un video dedicato solo a regali per donna, regali per l'uomo, regali per la coppia, ma ho messo dentro un po' di tutto. E ho messo dentro sia delle idee un pochino più economiche, quindi low cost, regalini così, sia qualcosa di più costoso. Procederò in modo random, ma iniziamo subito. Iniziamo con qualche regalo un pochino più particolare. Sia per quanto riguarda un regalo per la donna o anche per la coppia, un'idea interessante potrebbe essere regalare magari un massaggio, quindi un massaggio dall'estetista, quindi un buono per un massaggio rilassante, drenante, magari più rilassante. Insomma, potrebbe essere un'idea carina, perché è qualcosa che uno effettivamente non fa, a meno che proprio non gli sia regalato. Vabbè, ci sono poi delle persone che vanno e si fanno i massaggi, però generalmente non è qualcosa che tu fai tutti i giorni o fai spesso, quindi un massaggio può essere un'idea carina. Allo stesso modo può essere carino, sempre per quanto riguarda lo stesso ambito, magari una giornata alla spa. Questa è un'idea un pochino più costosa, però per esempio, magari qui al nord ci sono delle bellissime terme, come le terme di Bormio, mi vengo in mente perché sono andata lì, che nel periodo invernale permettono proprio di farsi questi bagni caldi all'aperto, mentre nevica è veramente stupendo. Rimaendo poi sullo stesso filone sempre del benessere, può essere carino, però è anche un pochino più costoso, regalare magari un abbonamento in palestra o un corso sportivo che può piacere al destinatario del regalo. Sempre rimanendo anche in questo caso sul filone dei regali un pochino più particolari, quindi non cose proprio materiali concrete, può essere carino regalare una cena sul tram alla coppia. Ovviamente questo è più per le città che hanno il tram, non so se da voi ci sia, però qui a Milano c'è questo tram all'interno del quale fanno proprio delle cene, è molto romantico, soprattutto poi nel periodo natalizio, perché ci sono tutte le lucine, è veramente molto molto bello. Altrimenti proprio per donna, in questo caso magari appassionata di make-up, di shopping, si può regalare un corso di self-make-up, quindi un corso di make-up per personale, quindi per sé, oppure anche una giornata per esempio con la personal shopper, per capire quali vestiti stanno meglio, la sua tipologia di fisico e così via. Naturalmente questi sono regali un po' più particolari. Invece se proprio siamo all'ultimo minuto e abbiamo bisogno di un regalo last minute, per le donne c'è sempre la classica trousse o palette, per la donna che si trucca, però secondo me deve essere un po' una via di mezzo, non una donna troppo 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 appassionata di trucco, però neanche una donna a questo po' né una via di mezzo, perché ovviamente se è una super appassionata saprà già cosa vuole, e quindi magari te lo dice già lei, te lo fa capire cosa le piace. In questo caso, come al solito, c'è la classica pupa, che fa le varie trousse di diverse dimensioni, come vi ho mostrato anche sulla mia pagina Instagram Rossi Makeup, se mi seguite nelle stories. Questa nella pupa ha fatto i gufetti, e ci sono delle trousse un pochino più grandi a gufo, anche proprio più piccoline, che vanno bene anche per le ragazzine, quelle un pochino più piccole, per le ragazze più che altro, non donne troppo mature. Queste piccole piccole, per esempio, contengono prodotti per le labbra, oppure quelle più grandi, contengono anche prodotti per il viso. Ultimamente ho notato che queste trousse sono sempre più complete, nel senso che all'interno contengono il primer, la cipria, i vari ombretti, o anche degli ombretti in gel, non ombretti in gel, degli eyeliner in gel, insomma c'è un po' di tutto all'interno. altrimenti se siamo già uno scalino più avanti, un granino più avanti, per chi è un pochino più appassionato, o anche un pochino più avanti con l'età, quindi non proprio ragazzine, qualcosa di più serio, però specifico, sempre per quanto riguarda le palette, per esempio la pupa ha fatto la Pup Art Eyes, che contiene all'interno tutti dei prodotti per gli occhi, anche per le labbra, ma anche per il viso, dedicati al trucco Smokey Eyes, quindi colori un pochino più scuri, ovviamente dipende anche dalle caratteristiche della persona, e dei gusti personali. Per poi arrivare alle mega palette giganti, che contengono all'interno praticamente di tutto, veramente quest'anno ce n'è per tutti i gusti. Ovviamente questa della pupa è un'idea, perché sono sempre le più classiche, secondo me le più carine e sfiziosse per Natale, perché sono anche carini come soprammobili, però poi ce ne sono di tantissime marche, e marchi differenti. Per gli amanti, per esempio, della lettura, un regalo molto carino è la lampada da libro. Sono quelle lampadine piccole piccole, che si attaccano sul libro, e illuminano le pagine senza dover accendere la luce generale, magari per chi legge di sera. Oppure, se invece si tratta di qualcuno un pochino più tecnologico, o anche non tecnologico, che non conosce ancora questo prodotto, per esempio il Kindle o il Kobo, che sono tutti quei e-reader, quei lettori per i libri digitali, sono secondo me un ottimo regalo per Natale. Ovviamente costano un pochino di più, magari sui 100€, però secondo me sono un regalo veramente carino, perché a volte, che ho notato che tutti dicono, però a me piace il libro, piace il cartaceo, sono un po' reticenti, in realtà, secondo me, poi una volta che lo provano, difficilmente torneranno indietro. Quello qua è il mio. All'interno del Kindle, c'è veramente già la luce incorporata, ed è una luce che non è come quella dello schermo, del computer che dà fastidio, ma è come se fosse una luce naturale che vada da fuori verso l'interno, insomma, è come se illuminasse il libro. E poi, non è uno schermo digitale, ma è uno schermo fatto apposta con una tecnologia che permette di non affaticare la vista, proprio come se fosse un libro. E questa è la particolarità del Kindle. E c'è anche il Kobo, che è anche molto carino, e lo avevo però, si è rotto, e quindi ho comprato questo. Tra l'altro, Amazon propone anche questi Kindle rigenerati, come questo che ho comprato io, che costano di meno, e sono praticamente uguali all'originale. Solo che non c'è la scatola, quindi magari come regalo un pochino più bruttino, senza scatola, però, vabbè, può essere un'idea. Oppure per gli amati della serie TV, può essere carino fare un abbonamento a Netflix, quindi, per esempio, anche solo un mese, un mese di Netflix, per vedere come si trova. Quindi, parliamo comunque di regali sui 10 euro, se vogliamo fare un mese. Oppure, un'altra idea carina e sfiziosa, sempre poco costosa, è lo scalda tazza USB, che si collega al computer e scalda la tazza. Veramente molto carino. Invece, se avete un budget un pochino più grosso, quindi un regalo per un vostro, non so, parente più intimo, la vostra fidanzata, così, un regalo, secondo me, carinissimo, che vi ho fatto vedere anche nel video sui regali della mia laurea, è la Polaroid. Ed è, veramente, secondo me, un regalo carinissimo, perché nessuno la comprerebbe, effettivamente, dovendola poi comprare, diciamo così. però, secondo me, è un po' il sogno di tutti avere delle foto che si stampano istantaneamente e tra l'altro, questa che ho io, la SnapTouch, è anche, diciamo, digitale, perché permette prima di vedere la foto se ti piace la stampi, altrimenti no. Altrimenti ci sono quelle un pochino meno costose di queste, quindi su cifre un po' più basse, che stampano subito e sono, per esempio, la Instax Mini, se non sbaglio, comunque, secondo me, è un regalo veramente carinissimo. Passando poi, magari, al vestiario, regali, secondo me, troppo carini sono, sia per maschi che per femmine, i maglioni di Natale, come per esempio, questo, che ho addosso io, che ho scritto Merry Christmas, Mass Lerenne, e tutta una, tutta un ricamo con i cuoricini, è veramente carinissimo. Questo l'ho comprato da H&M, quindi da H&M, però ne ho comprati anche altri da Asos e da Zalando, però li vendono anche nei negozi normali, insomma, e sono veramente belli, belli. Vi faccio vedere, per esempio, l'anno scorso avevo preso questo della Only, con il pinguino e tutti i cristalli di ghiaccio, poi quest'anno ho preso questo bellissimo con scritto Christmas, con le paillettes, le scarpette di un po' di Babbo Natale, è scritto Love, con i colori proprio natalizi della Only, e questa è della edizione di quest'anno, quindi l'ho trovato anche su Zalando, ma anche nei negozi che vendono. Oppure, anche questo, guardate che carino, è la Grap Soul, un pochino più serioso, però, poi in realtà, con qui, l'omino di pan di zenzero, altrimenti, non proprio natalizi, ma comunque sempre con nel clima natalizio, diciamo così, questo maglioncino qui, per esempio, è blu, con tutte le paillettes, che fa proprio Natale e festività. E questi maglioni ci sono tantissimo anche per gli uomini, praticamente ho notato che per gli uomini ci sono moltissimi maglioni natalizi, per le donne no, perché non lo sono, le donne non possiamo mettere i maglioni negli Natali, non so perché. Comunque, poi ristando sempre un pochino nell'ambito festiario, classico regalo, il classico completino intimo, magari rosso, quindi per Natale o per Capodanno, oppure le calze, le calze di Natale, però calze, calze antiscivolo, quelle grosse, ho visto delle bellissime calze di Natale da Oiscio, che mi sono piaciute tantissimo, con la Renna troppo belle, se no le classiche da Calzedonia, ne proponevi tutti i tipi, oppure anche calze normali da mettere sotto i pantaloni, però con i ricami di segni natalizi, con le Renne, con la Nerve, insomma un po' così, che anche lì ho viste un po' da Oiscio e forse anche da Calzedonia c'è qualcosina, comunque in giro nei vari negozi in questo periodo si trovano tanto. altrimenti rimanendo sempre in questo ambito sono carinissime le pantofole di Natale, pantofole che possono essere un po' pazze, per esempio pantofole con l'unicorno, pantofole quindi quelle grosse babbucce con l'unicorno, con l'orsetto, oppure qualcosa di più carino sempre da Oiscio, ho visto delle pantofole più graziassine, con qualche brillantino e con la Renna, se non sbaglio, ormai sono fissata con questa Renna però veramente ce ne sono di tutti i tipi veramente carine, non pantofole c'è un brutte come a cui si pensa quando si pensa alle pantofole invece queste qui sono un po' pantofole più calde più carine, altrimenti rimanendo un po' sui regali per la casa sempre adesso sto seguendo un filone logico bellissima secondo me la coperta una coperta una coperta calda una coperta calda e colosa può essere la classica coperta cioè classica la coperta con le maniche quindi per i più pigroni che vogliono stare a letto al computer o a leggere sdraiati la coperta con le maniche è fantastica oppure ci sono tantissime coperte in questo periodo calde e colose da Oiscio vabbè ormai Oiscio non so perché mi viene sempre mente quello però anche negli altri negozi è magari una persona legge un libro svegliata sul letto non dico davanti al camino perché magari non tutti ce l'hanno però con accesso a una pandela e secondo me è proprio fantastico a questo punto l'ha aggiunto il nirvana con una bellissima Yankee Candle per Natale quella che più mi piace innanzitutto mi piacciono tanto le fragranze natalizie però mi piace anche Season of Peace quindi Stagione di Pace altrimenti ce ne sono comunque di diversi tipi e dimensioni è la particolarità delle Yankee Candle che hanno questa boccettina carinissima che poi una volta finita la candela potete eliminare lo stoppino all'interno e diventa un portaoggetti in questo caso io ho messo dentro i batuffoli di cotoni colorati per quanto riguarda invece se abbiamo magari una zia una mamma quindi qualcuno un po' più avanti con l'età è carino secondo me regalare magari il piatto di Natale quindi un piatto natalizio che puoi trovare nei negozi per la casa da casa nuova rimanendo sempre su quest'ambito molto carino è anche il centro tavola natalizio quindi queste candele o anche ghirlande insomma decorazioni da mettere al centro della tavola i più golosi non dimenticatevi che sempre ben accetti sono i cioccolatini più pregiate magari della Lint o un kit per la cioccolata calda o anche la tazza puoi regalare quella cioccolata calda per esempio la cioccolata calda della Lint e le tazze ce ne sono di tutti i costi anzi ultimamente sta andando tantissimo la tazza che si riscalda e cambia colore quindi è per esempio tutta rossa appena entra la bevanda appena si lasse la bevanda calda compare un'immagine anche quello secondo me è veramente un'idea spezia se è carina sia tazza che tazzine avendo nell'ambito cucina si può regalare anche un grembiule ai cuochi quindi ai cuochi alle persone che amano cucinare o che si dilettano magari con delle scritte simpatiche ci sono per esempio quegli uomini che pensano di essere dei bravissimi cuochi e ogni tanto si dilettano a fare la pizza a fare dei piatti particolari e regalare proprio un grembiule con una scritta spiritosa è anche un regalo carino scendendo un po' più di prezzo le chiavette usb che sono sempre utilissime a forma magari di animaletto con delle varie forme strane oppure i cappellini questo qua ovviamente il prezzo dipende dalla marca però ce ne sono bellissimi spiritosi per esempio sempre da Wish ne ho visto uno con le orecchie da gatto da gattino li ho visti un po' dappertutto comunque con un tessuto molto carino molto bello veramente spiritosi comunque i cappelli ovviamente di ogni tipo per uomo per donna insomma in base ai gusti della persona a cui bisogna regalarlo immancabile il classico libro magari potete cambiare un po' genere nel senso che ovviamente deve essere un libro che piace però si può regalare un libro anche a chi non è appassionato di lettura per esempio metti che una persona è appassionata di oroscopo gli regali il libro di Paolo Fox dell'anno nuovo per esempio a me piacerebbe tantissimo il libro di Paolo Fox del 2018 perché già l'anno scorso me l'hanno regalato quello del 2017 e anno per anno mese per mese ti dice tutto il tuo oroscopo ed è un regalo sfizioso ma carino e poi infine andiamo sulle solite cose o almeno promesse solite cose come può essere una crema per le mani per le colleghe quindi un kit magari di bagno schiuma crema per le mani crema per il corpo che può essere di brochet di bottega verde o anche qualcosa magari più costoso di alta profumeria oppure vanno tantissimo a Natale i negozi come Lush che vendono questi saponi dal gusto particolare le palle frizzanti da mettere nella vasca da bagno che colorano l'acqua e frizzano e tutte queste cosine qui spiritule sia che magari sono cose che una persona poi effettivamente non si compra magari alcuni si però in genere non ti compri la palla da bagno è una cosina in più che ti regalano e che fa piacere ripensandoci sono tutti regali così tutti un po' coccolosi alla fine però spero che vi sia utile e fatemi sapere qual è stato il regalo che vi è piaciuto di più e niente adesso non vi resta solo che andare a comprarli vi mando un bacio vi raccomando iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto e attivatevi la campanella per ricevere le notifiche quando carico un nuovo video altrimenti non vi arrivano un bacio ciao alla prossima